In primavera crescevano nel nostro giardino molte rose e come mai crescessero non so, dato che nessuno di noi si sognava mai di innaffiarle né di potare i rosai. Veniva sì e no una volta all'anno un giardiniere e si vede che bastava. Le rose Lidia, le violette Lidia, diceva mia madre passeggiando per il giardino e rifacendo il verso a quella sua compagna di scuola. In primavera venivano nel nostro giardino i bambini di Terni con la loro bambinaia assunta la quale aveva un grembiale bianco e calze bianche di filo di scozia e si toglieva le scarpe e le posava accanto a sé sul prato. Il cucco e la lullina, i figli di Terni, avevano anche loro vestiti bianchi e mia madre gli metteva i miei grembiali perché giocassero senza sporcarsi. «Sst, st, guardate cosa fa il cucco», diceva Terni ammirando i suoi bambini che giocavano con la terra. Anche Terni sul prato si levava le scarpe e la giacchetta per giocare a palla ma tornava subito a rinfilarseli se si sentiva arrivare mio padre. Avevamo in giardino un albero di ciliegie e Alberto saliva sull'albero a mangiare ciliegie con i suoi amici, Frinco, quello dei libri, torva a figura in maglione e berretto a visiera e i fratelli di Lucio. Lucio veniva al mattino e se ne andava la sera. Nelle belle stagioni soggiornava sempre a casa nostra perché loro non avevano giardino. Lucio era delicatino, gracile e a tavola non aveva mai fame. Mangiava un poco, sospirava, posava la forchetta, sono stanco di masticare, diceva parlando con la R come tutti loro in famiglia. Lucio era fascista e i miei fratelli lo facevano arrabbiare parlandogli male di Mussolini. Non parliamo di politica, diceva Lucio appena vedeva arrivare i miei fratelli. Aveva da piccolo grossi boccoli neri accomodati in lunghe banane sulla fronte. Poi gli tagliarono i capelli e aveva allora una testa arrabbiata e liscia, lustra di brillantina ed era vestito sempre come un piccolo uomo con giacchettine attillate e cravattine a farfalla. Aveva imparato a leggere insieme a me ma io avevo letto un mucchio di libri e lui i pochi perché leggeva ad agio e si stancava. Tuttavia quando era a casa nostra leggeva anche lui perché io ogni tanto, stufa di giocare, mi buttavo con un libro sul prato. Lucio andava poi a vantarsi con i miei fratelli d'aver letto un libro per intero perché loro sempre lo canzonavano che leggeva poco. Oggi ho letto due lire, oggi ho letto cinque lire, diceva compiaciuto mostrando il prezzo che stava scritto sul frontespizio. Lo veniva a riprendere la sera la sua donna, una certa Maria Boninsegni, una donnetta vecchia rugosa come una volpe spelata intorno al collo. Questa Maria Boninsegni era molto devota e ci portava me e Lucio in chiesa e nelle processioni. Era amica di padre Semeria e ne parlava sempre e una volta in non so che cerimonia religiosa ci presentò me e Lucio a padre Semeria il quale ci accarezzò la testa e le chiese se fossimo suoi figli. No figli d'amici rispose la Maria Boninsegni. Né Lopez né Terni amava la montagna e mio padre le gite e le ascensioni le faceva a volte con un suo amico che si chiamava Galeotti. Galeotti abitava in una campagna chiamata Pozzuolo con una sorella e un nipote. Mia madre era stata una volta in quella campagna e si era molto divertita, parlava sempre di quei giorni a Pozzuolo. C'erano là polli e tacchini e si facevano grandi mangiate. La Dele Rasetti, la sorella di Galeotti, aveva molto passeggiato con mia madre dicendole i nomi delle erbe, delle piante, degli insetti perché in quella famiglia erano tutti entomologi e botanici. La Dele aveva poi regalato a mia madre un suo quadro dove si vedeva un lago alpino e lo tenevamo appeso nella nostra stanza da pranzo. Al mattino la Dele si alzava presto per fare i conti col fattore o per dipingere oppure se ne andava sui prati a erborizzare, piccola, magra, col naso puntuto, col suo cappello di paglia. Come brava la Dele si alza presto e dipinge e va a erborizzare, diceva sempre mia madre ammirata, lei che non sapeva dipingere e non riconosceva il basilico della cicoria. Mia madre era pigra ed era sempre piena di ammirazione per la gente attiva e ogni volta che vedeva la Dele Rasetti si metteva a leggere manuali di scienze per imparare anche lei qualcosa sugli insetti e sulla botanica ma poi si stufava e lasciava lì. Galeotti veniva a trovarci l'estate in montagna col nipote che era il figlio della Dele ed era amico di mio fratello Gino. Mia nonna la mattina passeggiava su e giù per la stanza in angoscia chiedendosi che vestito mettere. Metta, diceva mia madre, quello grigio coi bottoncini. No, che Galeotti l'ha già visto, diceva mia nonna torcendosi le mani per l'incertezza. Galeotti, mia nonna non la guardava quant'era lunga essendo sempre assorto a parlare con mio padre e a concertare camminate e ascensioni. Mia nonna del resto, nonostante quella preoccupazione di portare a essere vista da Galeotti col vestito di ieri, non lo poteva soffrire Galeotti trovando il rozzo e semplice e temendo che portasse mio padre in posti pericolosi. Il nipote di Galeotti si chiamava Franco Rasetti. Studiava fisica, aveva però anche lui la mania di raccogliere insetti e minerali e questa mania l'aveva attaccata a Gino. Tornavano dalle gite con zolle di muschio nel fazzoletto, scarabai morti e cristalli dentro al sacco da montagna. Franco Rasetti a tavola parlava incessantemente ma sempre di fisico, di geologia o di coleotteri e parlando tirava su col dito tutte le briciole sulla tovaglia. Aveva il naso puntuto, il mento aguzzo, un colorito sempre un po' verdognolo da lucertola e baffetti spinosi. È molto intelligente, diceva di lui mio padre, però è arido, è molto arido. Franco Rasetti tuttavia, pur essendo arido, aveva scritto una poesia una volta tornando con Gino da una gita. Mentre erano in un casale abbandonato e aspettavano che finisse di piovere. Cade la pioggia, lente e uniforme, sui prati verdi e sulle rocce nere. Nell'aria si dileguan vaghe forme, velate di caligini leggere. Gino, lui non scriveva poesie e non amava molto né le poesie né i romanzi, ma questa poesia gli piaceva molto e la recitava sempre. Era lunga. Io purtroppo ricordo solo quella strofa. Anche a me la poesia delle rocce nere sembrava bellissima e mi struggevo di invidia per non averla scritta io. Era semplice, prati verdi, rocce nere. Ne avevo visti tante volte anch'io in montagna e non mi era venuto in testa che si potesse farne niente. Le avevo guardati e basta. Le poesie erano dunque così, semplici, fatte di niente, fatte delle cose che si guardavano. Mi guardavo intorno con occhi attenti, cercavo cose che potessero assomigliare a quelle rocce nere, a quei prati verdi e che questa volta non mi sarei lasciata portare via da nessuno. Gino e Rasetti camminano bene, diceva mio padre. Hanno fatto le guillet noire de Petteret. Vanno bene. Peccato che quel Rasetti è così arido. Non parla di politica, non gli interessa, è arido. Ma la Dele no, non è arida, diceva mia madre. Come brava, si alza presto, dipinge. Mi piacerebbe essere come la Dele. Galeotti era sempre allegro, era piuttosto basso, grassoccio e vestito di lana grigia pelosa e aveva i baffi bianchi, corti, i capelli tra bianchi e biondi e il viso abbronzato. Tutti noi gli volevamo un gran bene, ma io di lui non mi ricordo altro. Un giorno erano in piedi nell'anticamera, Terni e mia madre, e mia madre piangeva. Dissero che Galeotti era morto. Le parole «è morto Galeotti» rimasero per sempre in me. Non era, fino allora, da quando io esistevo al mondo, morto nessuno che noi conoscessimo tanto bene. La morte si sposò indissolubilmente nel mio pensiero quella forma vestita di lana grigia, allegra e che spesso veniva a trovarci in montagna d'estate. Galeotti era morto all'improvviso di una polmonite. Molti anni più tardi, dopo che fu scoperta la penicillina, mio padre spesso diceva «Eh, se ci fosse stata la penicillina al tempo del povero Galeotti non sarebbe morto. È morto di una polmonite da streptococco, si guarisce con la penicillina». Mio padre, appena moriva una persona, immediatamente aggiungeva al suo nome la parola «povero» e si arrabbiava con mia madre che non faceva così. Era questa del povero un'abitudine molto rispettata nella famiglia di mio padre. Mia nonna, parlando di una sua sorella morta, diceva invariabilmente «regina poveretta» e non la nominava mai altrimenti. Galeotti divenne dunque il povero Galeotti, un'ora appena dopo la sua morte. A mia nonna la notizia della sua morte fu appresa con grande cautela perché lei, avendo sempre molta paura di morire, non gradiva affatto che la morte girasse nei suoi paraggi fra la gente che conosceva. Mio padre, dopo la morte di Galeotti, diceva che non provava più grande gioia nel fare ascensioni. Le faceva tuttavia lo stesso, ma senza l'antico piacere, e lui e mia madre parlavano del tempo che era ancora vivo Galeotti come di un tempo felice, allegro, quando loro erano più giovani, quando le montagne conservavano intatto per mio padre il proprio fascino, quando il fascismo sembrava dovesse presto finire. «Com'è carino, com'è simpatico Mario», diceva mia madre, lisciando i capelli a Mario che si era appena alzato e aveva per il sonno gli occhi piccoli quasi invisibili. «Il baco del calo del malo», diceva Mario con un sorriso assorto carezzandosi le mascelle. Era il suo modo di annunciare che non aveva il muso e che avrebbe chiacchierato con mia madre, con mia sorella e con me. «Com'è carino Mario, com'è bello», diceva mia madre. «Assomiglia al Silvio». «Assomiglia a Sue Sayakawa». Sue Sayakawa era un attore cinematografico noto a quel tempo. Mia madre, quando vedeva sullo schermo gli occhi mongoli e gli zigomi ossuti di Sue Sayakawa, esclamava «Ei Mario, è proprio lui!» «Non trovi anche tu che Mario è bello?», chiedeva mio padre. «Oh, io non lo trovo tanto bello, più bello Gino», mio padre rispondeva. «È bello anche Gino», diceva allora mia madre. «Com'è simpatico Gino, il mio ginetto! A me mi piacciono solo i miei figli, io mi diverto solo con i miei figli». E quando Gino e Mario avevano un vestito nuovo del sarto maccheroni, mia madre li abbracciava e diceva «Io ai miei figli, quando hanno un vestito nuovo, gli voglio più bene». Si facevano in casa nostra, sulla bellezza e bruttezza della gente, discussioni accese. Si discuteva ancora se una certa signora Gilda, governante a Palermo, in una famiglia di nostri amici era bella o no. I miei fratelli sostenevano che era bruttissima, una specie di muso di cane, ma mia madre diceva che era di una bellezza straordinaria. «Ma che? Ma che?» urlava mio padre con una di quelle sue risate tuonanti che cheggiavano per tutta la casa. «Ma che? Bella quella lì!» E si discuteva sempre a lungo se erano più brutti i Colombo o i Coen, nostri amici che incontravamo in montagna d'estate. «Son più brutti i Coen!» urlava mio padre. «Vuoi mettere con il Colombo? Non c'è paragone! Il Colombo sono meglio! Non hai occhi! Non avete occhi voi altri!» Delle sue varie cugine, che si chiamavano o Margherita o Regina, mio padre usava dire che erano molto belle. Regina da giovane cominciava era una gran bella donna e mia madre diceva «Ma no, Beppino, era una baslettona!» Sporgeva in fuori il mento e il labbro di sotto per mostrare che gran basletta che aveva quella regina e mio padre si arrabbiava «Tu non capisci niente di bellezze e bruttezze! Tu dici che i Colombo sono più brutti dei Coen!» Gino era serio, studioso, tranquillo, non picchiava nessuno dei suoi fratelli, andava bene in montagna, era il prediletto di mio padre. Di lui mio padre non diceva mai che era un asino. Diceva però che dava poco spago. Il dar corda in casa nostra si chiamava dar spago. Infatti Gino dava poco spago perché leggeva sempre e quando gli si parlava rispondeva a monosillabi senza alzare la testa dal libro. Se Alberto e Mario si picchiavano non si muoveva e continuava a leggere e mia madre doveva chiamarlo e scuoterlo che venisse a dividerli. Leggendo mangiava pane, ad agio ad agio, una pagnotta dopo l'altra. Ne mangiava più o meno un chilo dopo il pranzo. «Gino!» gridava mio padre. «Non dai spago! Non racconti niente! E poi non mangiare tanto pane! Farai l'indigestione!» Gino infatti spesso aveva l'indigestione. Era rosso in faccia, accigliato, le sue orecchie a sventola si facevano rosse come il fuoco. «Cos'è che Gino ha quel muso?» diceva mio padre a mia madre svegliandola nella notte. «Cos'è che ha quella luna? Non si sarà mica messo in qualche pasticcio?» Mio padre non sapeva mai riconoscere nei suoi figli i musi dalle indigestioni e davanti a una vera indigestione sospettava oscure storie di donne, di cocotto come lui diceva. A volte la sera portava Gino dai Lopez, sembrandogli il più serio, il più educato, il più presentabile dei suoi figli, ma Gino aveva il vizio ad addormentarsi dopo mangiato e si addormentava anche la dai Lopez in una poltrona con la Frances che gli parlava. I suoi occhi si facevano piccoli, la sua testa dondolava dolcemente e dopo un poco dormiva con un sorriso svanito e beato e con le mani in grembo. «Gino!» urlava mio padre. «Non dormire! Stai dormendo!» «Voi altri!» diceva mio padre. «Non siete gente da portare nei loghi!» Da una parte c'erano Gino e Rasetti con le montagne, le rocce nere, i cristalli, gli insetti. Dall'altra parte c'erano Mario, mia sorella Paola e Terni, i quali detestavano la montagna, amavano le stanze chiuse e tiepide, la penombra e i caffè. Amavano i quadri di Casorati, il teatro di Pirandello, le poesie di Verlaine, le edizioni di Gallimard e Proust. Erano due mondi incomunicabili. Io non sapevo ancora se avrei scelto l'uno o l'altro. Mi attiravano tutte e due. Non avevo ancora deciso se nella mia vita avrei studiato i coleotteri, la chimica, la botanica o se invece avrei dipinto quadri o scritto romanzi. Nel mondo di Rasetti e di Gino era tutto chiaro. Tutto si svolgeva alla luce del sole, tutto era plausibile, non c'erano misteri o segreti e invece nei discorsi che facevano Terni, la Paola e Mario sul divano in salotto, c'era qualcosa di misterioso ed impenetrabile che esercitava su di me una mescolanza di fascino e di spavento. Cos'ha Terni con Mario e Paola da ciucciottare? Diceva mio padre a mia madre. Stanno sempre lì in un angolo a ciucciottare. Cosa sono tutti quei fufignezzi? I fufignezzi erano per mio padre i segreti e non tollerava vedere la gente assorta a parlare e non sapere cosa si dicevano. Parleranno di Proust, gli diceva mia madre. Mia madre aveva letto Proust e lei pure, come Terni e la Paola, lo amava moltissimo e raccontò a mio padre che era questo Proust uno che voleva tanto bene alla sua mamma e alla sua nonna e aveva l'asma e non poteva mai dormire e siccome non sopportava i rumori aveva foderato di sughero le pareti della sua stanza, disse mio padre. Ah, doveva essere un tanghero. Mia madre non aveva scelto nell'uno e nell'altro di quei due mondi, ma abitava un po' nell'uno e un po' nell'altro e nell'uno e nell'altro stava con gioia, perché la sua curiosità non respingeva mai nulla, ma si alimentava di ogni qualità di bevanda o di cibo. Mio padre invece usava gettare sulle cose nuove che non conosceva uno sguardo torvo e pieno di sospetto. Ai libri che Terni portava in casa, lui temeva sempre che non fossero adattati per noi. Sarà adattato per la Paola, chiedeva mia madre sfogliando la recherche e leggendone qua e là qualche frase. Deve essere roba noiosa, diceva poi buttando via il volume. E il fatto che fosse roba noiosa lo rassicurava un poco. Quanto ai quadri di Casorati di cui Terni ci portava alle riproduzioni, mio padre non li poteva soffrire. Ah, sgarabazzi, sbrodeghezzi, diceva. La pittura del resto non le interessava affatto. Andava con mia madre nei musei di quadri quando erano in viaggio, accordando ai pittori antichi come Goio o Tiziano per il fatto che erano ormai universalmente riconosciuti e giubilati una certa legittimità. Voleva però che quelle visite ai musei fossero rapidissime e non permetteva a mia madre di sostare davanti ai quadri. Lidia, vieni, andiamo, diceva trascinandola via. Aveva in viaggio sempre una gran fretta. Anche mia madre del resto non si interessava molto alla pittura. Conosceva però Casorati di persona e lo trovava simpatico. Che bella faccia che ha Casorati, diceva sempre. Siccome gli trovava una bella faccia accettava anche i suoi quadri. Sono stata nello studio di Casorati, diceva mia sorella rientrando. Com'è simpatico Casorati, che bella faccia, diceva mia madre. Cosa diavolo va a fare la Paola nello studio di Casorati? Chiedeva mio padre con cipiglio e sospetto. Mio padre temeva sempre che noi ci mettessimo in qualche pasticcio e cioè che ci trovassimo intrappolati in oscure trame amorose e dovunque vedeva minacce alla nostra castità. Ma niente, c'è andata con Terni. Sono andati a salutare l'Anella Marchesini, gli spiegava mia madre. Il nome dell'Anella Marchesini, amica d'infanzia di mia sorella e che mio padre conosceva bene e stimava, bastava a rassicurare mio padre. L'Anella Marchesini studiava pittura con Casorati e la sua presenza in quello studio mio padre la considerava dunque legittima. Non sarebbe bastata rassicurarlo invece la compagna di Terni, che lui non considerava per noi un'autorevole protezione. Quanto tempo da perdere a quel Terni, osservava. Farebbe meglio a finire il suo lavoro sulla patologia dei tessuti. È un anno che ne sento parlare. Sai che antifascista Casorati, diceva mia madre, gli antifascisti diventavano col tempo sempre più rari e mio padre quando sentiva che ce n'era uno subito si rallegrava. Ah è antifascista, ah davvero, diceva con interesse. Sì però i suoi quadri sono dei gran sbrodeghezzi. Possibile che alla gente gli piacciano? Terni era molto amico di Petrolini e quando venne Petrolini a Torino per una serie di rappresentazioni Terni aveva quasi ogni sera biglietti di poltrona in omaggio che regalava ai miei fratelli e a mia madre. Oh che bellezza, diceva mia madre nella giornata, anche stasera si va a sentire Petrolini. Andiamo in poltrona, come mi piace andare a teatro in poltrona. È così simpatico Petrolini, è così spiritoso. Gli sarebbe piaciuto molto anche al Silvio. Ah, allora anche stasera mi pianti solo, diceva mio padre. E mia madre gli diceva, ma vieni anche tu Beppino. Ma che, ma che, urlava mio padre. Figurati se vengo a sentire Petrolini. Mi importa assai a me di Petrolini. Un pagliaccio. Siamo andati coi Terni a salutare Petrolini nel suo camerino, diceva mia madre il giorno dopo. È venuta anche Mary. Loro sono molto amici di Petrolini. La presenza di Mary, la moglie di Terni, era agli occhi di mio padre una presenza autorevole e rassicurante perché lui nutriva per Mary la più alta ammirazione e stima. La presenza di Mary valeva ad accordare una legittimità e un decoro a quelle serate a teatro e anche forse un poco alla figura di Petrolini, che però lui continuava a disprezzare, immaginando che dovesse per recitare mettersi un naso finto e ossigenarsi i capelli. Non capisco come mai Mary sia tanto amica di Petrolini, diceva con profondo stupore mio padre. Non capisco come mai si diverta tanto a sentire Petrolini. Capisco Terni e voi altri che vi piacciono tanto i sempiezzi. E com'è che loro sono tanto amici di Petrolini? Deve essere una persona equivoca. Per mio padre un attore, e in special modo un attore comico che faceva smorfie sulla scena per far ridere la gente, doveva senz'altro essere una persona equivoca. Mia madre gli ricordava tuttavia che suo fratello Cesare aveva passato la vita in compagnia di attori e aveva sposato un'attrice. Non potevano essere tutte quelle persone che suo fratello usava a frequentare. Non potevano essere sempre gente equivoca, anche se venivano in scena travestiti o se si tingevano i capelli e i baffi. E Molière? Gli diceva mia madre. Molière non faceva anche lui l'attore. Non dirai mica che era una persona equivoca? Ah! Molière, diceva mio padre, che aveva per Molière la più grande stima. Molière è bellissimo. Il povero Cesare aveva una passione per Molière. Ma non vorrai mica mettere Molière con Petrolini? Urlava alla fine con una di quelle risate tonanti che rovesciavano su Petrolini il più acuto disprezzo. A teatro ci andavano di solito mia madre, la Paola e Mario e ci andavano di solito con i Terni, i quali se non avevano, come per Petrolini, poltroni in omaggio, avevano però sempre un palco e li invitavano. Perciò mio padre non poteva dire non voglio che buttiate via i soldi a teatro. Inoltre vedeva con benevolenza una serata di mia madre con Mary. Vai sempre a divertirti, diceva però mia madre. Mi pianti sempre. Ma tu la sera te ne stai sempre l'aria inchiuso nel tuo studio, diceva mia madre. Non mi dai spago, non mi fai compagnia. Che asina, diceva mio padre. Lo sai che ho da fare. Non ho tempo da perdere come voi altri e poi non t'ho mica sposato per tenerti compagnia. Mio padre la sera nel suo studio lavorava, cioè correggeva le bozze dei suoi libri e vi incollava certe illustrazioni. A volte tuttavia leggeva romanzi. È bello quel romanzo, Beppino? chiedeva mia madre. Ma che? Una noia, un sempiezzo, rispondeva alzando le spalle. Leggeva però con la più viva attenzione e intanto fumava la pipa e spazzava via la cenere dalla pagina. Quando tornava da qualche viaggio aveva sempre con sé romanzi polizieschi che comprava sulle bancarelle delle stazioni e finiva di leggerli là nel suo studio la sera. Erano di solito in inglese o in tedesco, sembrandogli forse meno frivolo leggere quei romanzi in una lingua straniera. Un sempiezzo, diceva alzando le spalle, e leggeva tuttavia fino all'ultima riga. Più tardi, quando cominciarono a uscire i romanzi di Simenon, mio padre ne divenne un lettore assiduo. Non è mica male Simenon, diceva. Descriva bene quella provincia francese, quell'ambiente di provincia è molto ben descritto. Ma allora, negli anni di via Pastrengo, i romanzi di Simenon non esistevano ancora, e i libri che mio padre portava dai suoi viaggi erano certi volumetti lucidi con figure di donne sgozzate in copertina, e mia madre, trovandogli lì nelle tasche del cappotto, diceva «Ma guarda che sempiezzi che legge questo beppino!». Terni aveva creato, fra la Paola e Mario, una connivenza che persisteva anche quando lui se ne andava. Era una connivenza votata, per quanto potevo capire, all'insegna della malinconia, o loro due insieme, o ciascuno per conto proprio, al crepuscolo in raccolta solitudine, e insieme leggevano poesie tristi, mormorandole in un dolente bisbiglio. Quanto a Terni, lui non era affatto, se ricordo bene, una persona così malinconica. Lui non era attratto in special modo dai luoghi abbandonati e silenziosi, né faceva mai passeggiate malinconiche solitarie. Terni viveva in modo perfettamente normale nella sua casa, con la moglie Mary, la bambinaia Assunta e i figli Cucco e Lullina, che lui e la moglie viziavano e davanti ai quali usavano entrambi estasiarsi. Ma Terni aveva portato in casa nostra il gusto della malinconia, degli atteggiamenti malinconici, così come vi aveva portato la Nouvelle Revue Francaise e le riproduzioni di Casorati. E la Paola e Mario avevano raccolto quell'invito, non Gino, che non piaceva a Terni e a cui Terni non piaceva affatto, non Alberto, che si infischiava di poesie di pittura e dopo la vecchia zitella senza mammella non aveva mai più fatto poesie e pensava soltanto a giocare a football, e non io, che non mi interessavo molto a Terni e non vedevo in lui che il padre del Cucco, bambino col quale a volte giocavo. Mostravano, la Paola e Mario, perduti nella loro malinconia, una profonda insofferenza per il dispotismo di mio padre e per i costumi di casa nostra, quanto mai semplici ed austeri. Avevano l'aria di sentirsi nella nostra casa in esilio, sognando tutta un'altra casa e tutt'altra abitudini. La loro insofferenza si traduceva in grandi mosi e lune, sguardi spenti e facce impenetrabili, risposte monosillabiche, rabbiosi sbatter di porte che facevano tremare la casa e recisi rifiuti ad andare il sabato e la domenica in montagna. Non appena mio padre usciva dalla stanza, loro si rasserenavano perché la loro insofferenza non includeva mia madre, ma era votata a mio padre soltanto. Ascoltavano le storie di mia madre e declamavano a gran voce con lei la poesia dell'inondazione. Erano parecchi giorni che si tremava tutti. Mario avrebbe voluto studiare legge e mio padre invece l'aveva obbligato a iscriversi in economia e commercio, sembrandogli, non so perché, la facoltà di legge una facoltà poco seria e senza un sicuro avvenire. Mario gliene portò per anni un mutuo rancore. Quanto alla Paola, era in genere malcontenta della vita che faceva e avrebbe voluto avere più vestiti. E i vestiti che aveva non le piacevano, sembrandole forse mascolini e di taglio pesante, perché mio padre voleva che ci vestissimo tutti dal sarto maccheroni, sarto da uomo, il quale faceva spendere poco. O almeno lui si era messo in testa che facesse spendere poco. Mia madre aveva anche una sartina, la sarta Alice, a cui a volte si ricorreva, ma mia madre diceva che non era brava. «Oh, come vorrei un bel vestito di seta pura», diceva mia sorella a mia madre, quando stavano a chiacchierare in salotto. E mia madre diceva «anch'io», e sfogliavano riviste di mode. «Vorrei», diceva mia madre, «una bella princessina di seta pura». E mia sorella diceva «Oh, anch'io». Ma la seta pura non potevano comperarla, perché non c'erano mai i soldi, e poi tanto la sarta Alice l'avrebbe sciupata non sapendo tagliare. La Paola avrebbe voluto tagliarsi i capelli, portare i tacchi alti, e non le scarpe mascoline robuste che faceva il signor Castagneri, andare a ballare in casa delle sue amiche, giocare al tennis. Nulla di questo le era consentito. Le era invece quasi in posto di andare il sabato e la domenica in montagna con Gino e con mio padre. La Paola trovava Gino noioso, Rasetti noioso, gli amici di Gino in genere tutti noiosissimi, e la montagna insopportabile. Schiava tuttavia molto bene, senza stile, dicevano, ma con grande resistenza alla fatica e con grande coraggio, e si buttava giù per le discese con l'impeto di una leonessa. A giudicare dall'impeto, dal furore con cui si buttava giù per le discese, io sono indotta a credere che si divertisse a schiare, e ne traesse il più vivo piacere, ma ostentava per la montagna un profondo disprezzo. Diceva di avere in odio le scarpe chiodate, i calzettoni di lana e le minute lentigini che apparivano al sole sul suo piccolo naso delicato. E per far sparire quelle minute lentigini usava, dopo che era stata in montagna, incipriarsi il viso di una cipria bianca. Avrebbe voluto avere poca salute, un aspetto fragile, e il viso di un pallore lunare, come hanno le donne dei quadri di Casorati, e si seccava quando le dicevano che era fresca come una rosa. Vedendo la bianca in viso, mio padre, che non sospettava che mettesse la cipria, diceva che era anemica, e le faceva prendere il ferro. Mio padre, svegliandosi nella notte, diceva a mia madre, che luna che hanno Mario e la Paola, hanno fatto una gran lega loro due, mi pare che quel sempio di terni li ha messi su contro di me.